come avrete capito dalle prime immagini di questo video non siamo in italia siamo in francia dietro c'è il louvre iniziamo questo viaggio qui vediamo il primo esempio di uomo volante un razzo un santo mandato nello spazio la nostra visita al louvre penso che sia praticamente il museo più importante nel mondo a questo punto è stata lunga ma intensa per una volta è stato meraviglioso è un'esperienza che consigliamo a tutti e vi consigliamo ovviamente di venire presto la mattina di organizzarvi per bene perché è molto stancante dura molto noi siamo entrati alle 10 circa è un po dopo però sono le 4 un quarto quindi insomma gli orari sono questi e voglia l'abbiamo visto un po più di fretta però abbiamo visto praticamente tutto e che altro di attrezzarvi con il cibo magari di non venire d'estate perché fa veramente caldo e se siete minori di 26 anni siete cittadini dell'unione europea l'ingresso è gratis se non dovete pagare 17 euro e quindi 17 15 vabbè più o meno ed è stupendo insomma è un gran bel vantaggio come l'anno scorso dopo una lunghissima giornata finalmente ci si recchiamo a cena per poi decidere cosa fare dopo aver recuperato un po di energia esatto e niente se tutto va bene stasera si sarei sulla torre di fè e no lo spoiler iniziamo con un grandissimo benvenuto perché va beh a parte i vini o di nuovamente non sia il pollo che avevo messo a fare queste uova ripiene di non lo so non lo so non lo so sinceramente non sappiamo cosa ci sia formaggio credo hai già assaggiato no sotto la schiumetta com'è come la schiumetta allora abbiamo preso un pollo con gnocchi di patate e che altro in una crema che sembra molto buona una cosa con pomodoro parmigiano una base strana però è divisa con flow non lo mangio solo io sembra buono il pane e il vino vi faremo sapere allora diciamo che alla fine ci siamo fatti tentare e abbiamo preso questo dolce qui che era una cosa buonissima per far mangiare anche a me però in generale non so se avrete già visto in caso non avete visto link qui su il vlog di praga abbiamo fatto un sacco di cene mega galattiche con pochissimi soldi parigi è molto costosa piccolo consiglio di viaggio è veramente costosa abbiamo pagato 30 euro a persona per un secondo abbastanza abbondante ma non troppo il pollo con gnocchi di patate e vabbè insomma quindi 30 euro è un po tanto però col calice di vino molto buono però in generale parigi è molto costosa perché abbiamo visto tutti quanti i menu e insomma si fa pagare 7 euro l'acqua ragazzi acqua buona perché quella supermercato fa cagare però 7 euro l'acqua frizzante insomma no non ci sta comunque i francesi sono proprio avanti oltre i cartelli per gli uomini nella metro ci sono anche i cartelli che consigliano i conigli come comportarsi cioè è tutta un'altra mentalità è pazzesco questo alle mie spalle è il petit palais ma questo alle mie spalle è il gran palais ora proveremo a visitarle entrambi alle mie altre spalle le altre oltre insieme al petit palais siamo entrati ovviamente molto bello abbiamo deciso di fare cosa una piccola colazione nel petit palais insomma in questa vista molto bello poi sta fresco abbiamo dei piccoli amici che vogliono mangiare con noi sono letteralmente lanciati sul tavolo proprio qua piccini un po' Grazie a tutti Grazie a tutti E' una cosa di semplicemente spettacolare Giudicate voi insomma Guardate quanto sono piccole le persone Quanto è grande questa trombola E' pazzesco Avete mai visto quel meraviglioso film Che è Midnight in Paris Se si vi ricorderete una scena In cui Owen Wilson incontra Carla Bruni Ed è proprio qui Siamo all'interno del museo di Rodin Appunto E qui c'è la famosa Statua del Pensatore Molto suggestiva Ale la martire mi ha accompagnato All'hotel Giorsan A fare un po' di car spotting Forse dietro di me Quella gialla che vedete È una bellissima Ferrari Non vi anticipo nulla Perché Se non l'avete già visto Vedete qui in alto Vi lascio nella scheda Il link al video di WeDrive Delle supercar di Parigi Perché sono pazzesche Dicevi? Niente che Quanto cazzo sono ricche No ma veramente Cioè non sono solo sceicchi O cose del genere Sono persone che sembrano normalissime E si possono far mettere queste altre E io viaggio con la metro Capisci? Con la metro Giusto Ragazzi lo shock Perché praticamente Uno di quelli del noleggio Mi ha appena chiesto Se io volessi noleggiare la macchina In spagnolo Io gli ho risposto in francese Per educazione Lui non so perché Mi ha risposto in inglese Io l'ho ringraziato in spagnolo Mi sto esaurendo Ma è una cosa impressionante È mastodontico Con questa luce è perfetta È stupendo E questo è l'arco da sotto Siamo venuti qui La cosa bella È che si può addirittura Io non lo sapevo Perdonatemi l'ignoranza Non sapevo Se potesse salire addirittura Sull'arco Cioè Sopra Ed è una cosa stupenda Però c'era una fila troppo lunga Allora abbiamo deciso di rinunciare Il mood di questo viaggio Se quello a Budapest e Praga Era all'insegna del cibo Questo è all'insegna dei luoghi del cinema Perché stamattina abbiamo visto quello di Midnight in Paris, no? Sì E ora vediamo Il luogo Con tutte le colonne Qui Di Inception Sì, sì, let's go L'ho ancora visto acceso però Si intravede E ora si vede La presenza di questa gigantesca Corre Eiffel Ebbene sì Proveremo ad entrarci La fila per iniziare Ad andare alle casse Per salire sulla torre E questa Ma non finisce lì Perché fa tutto questo giro Questo serpentone qui E va lì Noi ovviamente stiamo facendo la fila Ovviamente Per che cosa? Per scale e ascensore Beh, lasciamo il dubbio Poi facciamo lo scoperto dopo Dai Intanto c'è un tramonto Viola barra raggio fuoco Spettacolare Ok, che inizi la scalata Abbiamo deciso di andare a piedi Mamma mia Prima rampa Finita Seconda rampa Finita Terza rampa Finita Siamo arrivati Al primo piano Sto morendo Siamo arrivati Su al primo piano Io sto veramente crepando Eh? Cinque minuti Cosa? L'ario Cinque minuti per salire Va bene Questa è la vista Ragazzi È stupenda Se solo mette a fuoco Perfetto È veramente bella Ne vale la pena Praticamente Noi eravamo Eh, laggiù Qui c'erano tutti I ingranaggi Quelli sono le persone E lì stavamo noi E questa è la vista da sopra Che è pazzesca Siamo Ufficialmente Arrivati Al secondo piano Ora facciamo qualche foto Però, insomma È uno Spettacolo Ah, non guardate Delirio generale Perché hanno appena acceso Tutte quante le lucine Che bello E qui c'è la vista Col fiume E tutta la città È bellissimo E questa è come si presenta Sì La vista da quassù Spero mi sentiate C'è un gran vento Siamo al top Della tour Eiffel Guardate quanto siamo in alto È una cosa pazzesca Ed è bellissimo Ale, com'è? Bellissimo 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 Siamo in cima Alla torre Sempre E mi è appena successa Una cosa stupenda Due Un ragazzo mi ha chiesto Di fare una foto A lui Alla sua fidanzata Vi ho chiesto Orizzontale o verticale Lui mi fa Verticale Perché mi devo mettere In ginocchio Praticamente La foto era Della sua proposta Di matrimonio Ed è una cosa Spettacolare Un ragazzo mi fa Non è successa Ma la prossima Non è successa